Grazie a tutti. Voglio donarti questo mio cuore, voglio donarti queste mie mani, mi resta con noi, non ci lasciare la morte mai più semperà. Resta con noi, non ci lasciare le vie del mondo, Signore. Prendiamo dicendo insieme al Signore così, grazie, oh Signore, perché ci hai donato la fede, perché ci hai donato il tuo amore, perché ogni domenica ci doni il tuo pane, perché sempre ci perdoni le nostre colpe, perché tu ci hai ridonato la vita nel battesimo, perché sempre sei con noi, perché sempre ascolti la nostra preghiera, perché tu sostieni i nostri momenti di sofferenza, perché tu orienti i nostri momenti di gioia, perché tu ci fai essere i tuoi figli. Cantiamo insieme come hanno cantato nella processione del Giovedì Santo, i buoni ebrei. Osanna al figlio di Davide, osanna al Redentor, insieme. Osanna al figlio di Davide, osanna al Redentor, apritevi o porte eterne, avanti la nè della gloria, adori c'era e terra l'eterno suo potere. Osanna al figlio di Davide, osanna al Redentor, osanna al figlio di Davide, osanna al Redentor. Osanna al figlio di Davide, osanna al Redentor, insieme. Signore, tu sei il mio pastore. Signore, tu non mi lascerai mai mancare il tuo amore. Preghiamo. Signore, tu sei il mio pastore. Non mi lascerai mai mancare il tuo sostegno della fede. Signore, tu sei il mio pastore. Tu hai preparato per noi una vita immortale. Signore, tu sei il mio pastore. La luce e la tua grazia mi guidano ogni giorno e mi porteranno a te. Signore, sei tu il mio pastore. Signore, tu sei il mio pastore. Signore, sei tu il mio pastore. Signore, tu sei il tuo amore. Signore, sei il mio pastore. Signore, tu sei il mio pastore. Signore, sei il mio pastore. Signore, voglio donarti queste mie mani, voglio donarti questo mio cuore. Resta con noi, non ci lasciar, la notte mai più scenderà. Resta con noi, non ci lasciar, per le vie del mondo si chiamano. E adesso cantiamo il canto dell'adorazione, che abbiamo cantato tante volte, forse lo ricordiamo a memoria. Non lo cantiamo in italiano perché penso che meno del 10% di voi lo conosca. Lo cantiamo in latino, certo che il 50% di voi lo sa ancora, si è aiutato dal vicino, dalla voce vicina. Tanto nervoso sacramento, venere luce lui. Grazie. 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 disceso dal cielo preghiamo o Dio che in questo mirabile sacramento dell'Eucarestia ci hai lasciato il memoriale della tua passione morte e risurrezione fa che adoriamo con viva fede il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue per sentire sempre in noi i benefici della tua redenzione tu che vivi i regni nei secoli dei secoli amén inginocchiandoci o inchinandoci riceviamo la benedizione del Signore dataci dal celebrante benedizio Dei onnipotentis patris e figli e spiritus santi amén Dio sia benedetto benedetto il suo santo nome benedetto il suo sacratissimo cuore benedetto il suo sacratissimo cuore benedetto Gesù Cristo vero Dio vero uomo benedetto il nome di Gesù benedetto il suo sacratissimo cuore benedetto il suo pregiosissimo sangue benedetto il suo pregiosissimo sangue benedetto Gesù del santissimo sacramento dell'altare benedetto Gesù del santissimo sacramento dell'altare Venedetto lo Spirito Santo Paraclito, Venedetto la Gran Madre di Dio Maria Santissima, Venedetto la Sua Santa Immacolata Concezione, Venedetto la Sua Gloriosa Assunzione, Venedetto il nome di Maria Vergine Madre, Venedetto San Giuseppe Suo Castissimo Sposo, Venedetto Gesù del Santissimo Sacramento dell'Altare, Venedetto Dio dei Suoi Angeli e dei Suoi Santi, Il canto alla Madonna, quello che Don Viotti ha amato molto, è che dal tono della Sua fede che possiamo raccogliere anche noi, quello che ha detto Don Ermis nell'Omelia, esattamente così. Andrò veder a Dio, in Cielo Patria Mia, andrò veder Maria, mia gioia e mio amore. al Cielo, al Cielo, al Cielo, al Cielo, andrò veder buddy al Cielo, a Cielo, al Cielo, andrò veder Mercedes Androte le bandini, e il grito di speranza, e il forte di costanza, nel caucho e tra il dolore, al cielo, al cielo, al cielo, al cielo, androte le bandini. Arce, 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 andrò per le grandi Noi gli occhi abbiamo dovuto chiamare questo nostro santuario la piccola Lourdes Noi lo riconosciamo come un piccolo santuario di Lourdes anche con il canto delle campane che ci ricordano il giorno la litania di Lourdes e anche con il canto che conclude ogni nostra funzione E l'ora che pia la schmilla fede E note ci via nella vederce Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria A te imacolata se ne vio di cuore Acce ta o beata il canto d'amor Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria La messa è finita, nel nome del Signore andate in pace Prendiamo grazie a Dio Buona festa dell'assunta a tutti Grazie E un grazie particolare a Dio Hermes che è amico molto del nostro santuario Per chi vuole andare andate liberamente e per chi desidera ancora sentire queste notizie di cronaca Con Dio Hermes avevamo fatto già lo scorso anno, due anni fa Degli incontri chiamati un corso di esercizio spirituale soprattutto dialogati E hanno già stato pensato già per quest'anno Per questo fine luglio Ma il Covid non ce l'ha permesso Perché molti si sono un po' spaventati Ma il tema era molto bello Suggerito da Dio Hermes Ti ricordi il tema, vuoi dirlo tu? Il tema era Quali sono le reazioni che il coronavirus suscita in un minuto di noi? Se ci pensate è un tema preziosissimo Lo possiamo parlare al prossimo se tutto va bene, Dio Hermes Sperando che il virus sia finito Sì Auguri davvero, tutti quanti Grazie Auguri proprio Grazie Grazie Grazie.